Ancora passo avanti nella politica di promozione del territorio da parte del Parco Naturale regionale delle Serre. Il commissario Alfonso Grillo infatti ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con il club alpino italiano per fornire appunto una collaborazione specifica rivolta alla conoscenza e alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del parco. Sarà possibile promuovere attività di esplorazione e di ricerca scientifica dei fenomeni anche carsici all'interno dello stesso parco così come saranno concordate le zone riservate a palestre di roccia e arrampicate. Si tratta di un articolato protocollo che consente al territorio di arricchire il proprio bagaglio di proposte operative e di future programmazioni tenendo conto dell'importanza del ruolo svolto dal club alpino italiano anche sotto il profilo sociale oltre che della conoscenza particolare del territorio la cui valorizzazione rimane il principale obiettivo del parco naturale regionale delle serre così come immaginato dal commissario Alfonso Grillo. In base al protocollo sarà attuata la promozione di un moderno escursionismo rispettoso del territorio che interessi la natura, i borghi e la scoperta di tutta l'area del parco delle serre con la definizione della rete escursionistica del parco la redazione delle carte dei sentieri per uso turistico escursionistico e la realizzazione di corsi di escursionismo quale occasione per un avvicinamento sicuro al territorio.